Nell'ultimo morso. Forza! Di glutisca per cortesia. Cos'era? Una barretta energetica? Sì, tra poco allenamento. Qual è il secondo? Il secondo della giornata. Buongiorno, flash acquatico con Ilaria? Cusinato. Beh sì, ce ne eravamo accorti. Però c'hai gli occhialini stampati. Eh, ci devo lavorare in spiaggia. Come ci devi lavorare? Eh, prendere il sole in spiaggia. Senti, sei l'unica che si presenta qui, al flash, con l'abito civile. Eh beh sì, sono sempre casual. Sempre attenta alla moda, come dire? Eh, bisogna stare attenti anche a come ci si presenta. Eh beh, brava, brava. Non solo l'estetica, a proposito, ma tutti questi capelli dentro la cuffia, come... non è che si può dare un taglio prima del... No, assolutamente. I tagli sono i ragazzi. Io ho già partito con il giallo fluo di due anni fa, adesso li tengo belli lunghi capelli. Senti, Ilaria. Trittico. 200 farfalla, 200 misti, 400 misti. Dura, eh. Sono tante gare. Eh, sono tante gare. Troppe gare. Cerchiamo di farle tutte bene. Sì, no, tu che vuol dire andare... Chiappare... L'importante è andare forte. Non c'è la Osu. Ah, no, non c'è. Ah, non c'è, ma dicono che non ci sia nella... Eh, peccato, c'è stata una bella sfida. Brava, peccato, bisogna dirlo. Bella sfida, sì. Osu, batti un colpo se ci sei, come dire, no? Speriamo, sì. Sì, ancora... Senti, 200 farfalla mi pare una gara abbastanza bella pesantina, no? Sì, però mi piacciono, li faccio volentieri. Però del tritico sono quelli meno, cioè, con... No. No, tutte le tre hanno stessa importanza, secondo me. Tutte le gare sono importanti allo stesso modo. Quindi vediamo di affrontarle tutte con il giusto semplice. Con la barretta energetica. Sì. Eh, con la barretta energetica. Che la fame c'è sempre. La fame c'è sempre. Senti, com'è andata la maturità? Maturità molto bene, sono uscita con 95. Sì, però non dire storie, perché mi hanno detto che, insomma, qualche... Qualche... qualche ripensamento e qualche... C'è stata. Qualcosa. No, perché volevi di più. No, assolutamente. Tu cerchi sempre di più. No, ma io sono contentissima per il voto che ho rilasciuto. Me lo sono meritato. Gli interregali. Quindi... Giusto così, secondo me. Hai visto che abbiamo il nuovo... Questo è il nuovo stand acquatico. E qui stanno parlando, cioè c'è tutto un movimento perché c'è il paralimpismo presente, quindi stanno... Ci stanno un po' parlando sotto, sopra. Eh dai. Si alleneranno poi con te. Facciamo passare. È una bella cosa, no? È una bella cosa. Dicevamo del salotto. Hai visto? Un po' di colore, un po'... Ti gusta? Un po' di novità. Anche questi... Questi divanetti qui ad Ostia mai visti prima. Eh, divano. Sempre salotto, vieni. Senti, ci vediamo lì direttamente? Assolutamente. Presente. E mi raccomando, e mi raccomando con il trucco perché così sembri... Sai, aspetta, c'è quella eroina, quella del cartoon, come si chiama? E quella... Non mi viene. Dai. Lega me. Lega me. Beh, vabbè, tu sembri molto eroina da cartoon, eh. Sei un personaggio, sei un po' d'iva. Ma sì, è un personaggio. Perché mi hai fatto aspettare qualche minuto prima di arrivare. Eh, avevo degno qui. Eva Kent, Eva Kent, è la famosa Eva Kent del nuoto. Eccola lì. Migliori si fanno sempre aspettare. Non ho capito, scusa? Migliori si fanno sempre aspettare. Brava. Ah, ecco, mi pare un buon proposito, ci vediamo lì, in Scozia, senza gonnellino e mi raccomando. No, no, perfetto. Perfetto, ci mancherebbe. Alla prossima con Swimbeads. Ciao.